Sequestrati beni per oltre 3,5 milioni di euro nell'ambito dell'operazione Mafia Capitale questa mattina alle Fiamme Gialle di Roma, proseguendo le attività svolte nel dicembre scorso, insieme a Ross dell'Arma dei Carabinieri hanno eseguito il sequestro di altri beni riconducibili a Giovanni De Carlo e Agostino Gagliannone per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. I due nuovi provvedimenti di sequestro riguardano le quote societarie, il capitale e l'intero patrimonio aziendale di società operanti nel settore dell'estetica, dei servizi di istituto di bellezza, di corsi di formazione e della ristorazione, nonché un'unità immobiliare e due auto-motoveicoli. All'interno dell'associazione Mafia Capitale facente capo a Massimo Carminati, l'imprenditore Agostino Gagliannone si era unito al gruppo criminale diventando parte integrante dell'associazione e mettendo a sua disposizione le proprie imprese e attività economiche nel settore dell'edilizia. Giovanni De Carlo invece è una figura nota nell'ambiente della Roma Bene del G7 locale e nazionale al punto da essere il dominus occulto di un ingentissimo patrimonio anche all'estero.